Intro Bentornati amici del gameplay su Game Oversize Sono tra 90 e una brutta notizia purtroppo perché La mia voce che sentite è per la prima volta in questa serie in post-produzione ragazzi Perché? Perché questo video è stato registrato nel momento in cui ho cambiato stanza Cioè sono passato da abitare al piano sopra che stanno in strutturazione A quello sotto perché lì hanno buttato giro muri le cose quindi non era più il caso Purtroppo riattaccando il pc non mi sono accorto che il jack dietro La presa jack del microfono dietro non funzionava più Perché come un Davey non l'ho provato sicuro che andava sparato Infatti quando poi per fortuna sono andato a riascoltare l'episodio dopo Fortuna che l'ho fatto subito Mi sono accorto che era venuto senza audio Una perdita solo di questo episodio Allora in questo episodio dobbiamo andare a parlare con Evala Che eccolo qui che sta in questa stanza Perché ha un piano per noi quindi andiamo a vedere cosa ha in mente Andiamo andiamo Allora in questo episodio Need a hanky? Gotta admito, non ho mai aspettato questo di te You humans have... Unusual tastes How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage I ask as a courtesy A concept you clearly forgot when you left without uttering a word Ciri was in a hurry I know So she wrote in her letter But that is not my concern You eliminated Imlareth adeptly So adeptly you might say you inspired me Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Erodin Significantly Two others remain How do we get rid of them? Caranthier is a loyalist But Gels That is another story He was a devoted follower of our former king And as it happens Erodin poisoned our beloved ruler Regicide Serious stuff Take it not many know about this Of the living? Only I And Erodin of course Question is Can you get Gels to believe you? Nothing you need worry about Fine So what do you propose? Why to bring Gels here? Show him the truth of what happened Fabulous plan If we only knew where to find him We do In the land of the NL Land of the NL? You don't recall After all You did travel with Erodin For some time The land of the Alderfolk The world where we arrived Centuries ago A world that is now our home The Red Riders come from there And it is there Where we will find Gels Think you're forgetting something You and Ciri might know How to travel between worlds But me Not so much You clearly know You clearly know there are many other worlds Apart from the one where we now stand They're linked by passages Hidden gateways That afford travel from one world to another Of course Few know of these gateways Even fewer can locate them Alvin Sages for example For example One such passage will open soon Near where we are Fortuitously enough Between this noble edifice And the butcher's yard That's our chance Shall we go? Quindi ragazzi Avalak ci ha spiegato Che per trovare L'altro generale Della caccia selvaggio Dobbiamo passare attraverso Questi mondi Quindi adesso Andremo Lo seguiremo Attraverso lo spazio E il tempo Ragazzi Ora Vi farò vedere come Arriviamo al portale Dobbiamo arrivare Eeeh Vediamo Eccolo qua Bisognava seguirlo Quindi ragazzi Viaggiremo per questi mondi Ma ascoltate Ascoltate Questo è il posto Una volta che entriamo Non ci sarà Non ci sarà Ritorno Soprattutto 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 Ricordi Onde che si è Soprattutto Segui per un posto Che sembra come questo Soprattutto 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 È possibile Non mi piace Il talento di vostro Sirel è La lady Of time And space E io Soprattutto 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 Come usare Questo Archeo A Un Degredo È Soprattutto Che potremmo Non ricapitare Insieme Allora Adesso Io vi farò Vedere Alcune Ispezioni Dei mondi Sfigandovi Cosa Avalak Ci ha detto Che sono Vedete Questo qui È il primo Il primo mondo È un mondo Desertico Però Come vediamo Ha Dei resti Di costruzione Ma come ci ha Spiegato Avalak Questo mondo Era abitato Dagli oceani Oceani Da come dice lui Senzienti Quindi Boh Non saprei Cosa intende Proprio Boh Boh Intanto Leggete Le dialoghi Che vi spiegheranno Quello che ho appena detto Però Guardate che bello Però ragazzi Veramente figo Veramente Veramente Figo 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 Chissà Gli oceani Come fanno A costruire Questa roba Vorrei vederlo Nel nostro splendore Questo mondo Però Purtroppo Non possiamo Bravo I o sondri per la superficie. Dobbiamo essere attenti che non ci sentiamo. E prima cosa? Ci sono alcune persone? Occhi? Ciascate che gli uomini hanno un monopoli per i mondiali? Quindi cosa vivono qui? Senti monstri di qualche tipo? Guarda quelle cli. Te ricordano di qualcosa? Guarda un po' di un giallo. Occhi. 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 Cosa c'era un'attività di acqua? No, solo un'attività. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è diversa mondia e ancora più forme di vita. Cosa c'è intelligenza, in realtà più di più che di nuovi uomini. Ma come si tratta, non è che ci può farlo di farlo di aiutare tutti i nostri spettatori. Occhi. 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 Poi dopo capiamo in questo mondo acquatico ragazzi, guardatelo. Mondo strano, molto molto strano, però vabbè. Dobbiamo muoverci poco. Perché si arriva subito. E poi capiamo finalmente nel mondo più significativo ragazzi. Un mondo che è importante anche per la trama di The Witcher 3. Perché ragazzi questo qua è il mondo come ci spiegherà Avala che quando lo troviamo è il mondo della fine dei tempi ragazzi. Perché una maledizione sui mondi fa in modo che il grande gelo ponga fine alla vita, all'estinzione. Ora io non so se questo gelo sia dovuto al freddo della caccia selvaggia. Perché praticamente ragazzi se sono in grado di fare questo sono delle entità fortissime. Ora io non lo so. Ora vi faccio vedere fuori come è il mondo dopo aver spaccato questo vetro che ci ho messo vent'anni a cariche. Perché dovevo spaccarlo con il fuoco. Lo vedrete ragazzi. E eccolo qua. Infatti è un mondo totalmente congelato. Ci sono anche qui segni di vita. Vedete laggiù un faro. Un faro che Geralt cerca di raggiungere. E infatti andiamo a vedere cosa conteneva il faro e chi ha acceso con quella luce. C'era un po' tempo. Hai avuto un po' tempo? Ah, non. Solo prendendo le sceglie. C'è questo place? Si sembrava che io ci sono qui prima. Hai. Hai avuto la progettazione di Eredin. Avanti che Ciri avuto qui. Per te. C'è cosa parla? Hai mai avuto come hai avuto a lasciare i Red Riders? Ma volte. Ma ho non ricordo qualcosa. Ciri è venuto per te. C'era che hai senti che erano in danger, ma che hai avuto la tua attrazione, e ha messo la tua attrazione nel gioco. Eredin ti si finisce a la tua attrazione. Perché io? Perché non diceva nulla? C'è cosa poi cambiò? C'è cosa cambiò? Sì, dove siamo? Il mondo dell'Enel? Non, questo è Ted Dera, il tempo dell'endimento. Il mondo è morto da la blanda blanda. Alas, questo ci ci sta a tutti, ma in differing stagioni della nostra existenza. È così calma quando ti dice questo. Eridan succumbi a il compagno dell'Apocalypse. L'acqua regolta lui ora. Non ho cominciato il stesso errore. Voglio capire? Non qui, non ora. L'acqua regolta, era tu? Pensavo che potrebbe aiutare il tuo passaggio. Dopo tutto, è quello che le luci facciano. Show il modo. Non sembra sicuro qui, anche. Let's go. Questa. La prossima passaggio. Quando sarà aperto? Sicuramente. Ed eccoci giunti nel mondo giusto, ragazzi, dove c'è il secondo generale della caccia selvaggia. Adesso non ricordo il nome del capo della caccia selvaggia. Quindi questo dovrebbe essere un mondo degli elfi. Da dove provengono gli elfi del nostro mondo, penso. Cioè del mondo di Geralt. Ora non so bene. Bellissimo. Guardate che bella. Impressionante, ragazzi. Veramente, veramente... Bellissimo. Guardate quelle cascate lì giù. Dai, ragazzi. C'è ragione lui. L'architettura elfica è qualcosa di impressionante, amici. Impressionante, mamma mia. Tanta roba. Pensate che gli umani hanno conquistato queste città e costruito sopra. Sì, è veramente uno scempio. Veramente, veramente uno scempio. Potevano usare le loro città. Oh, chi è quella? Intanto, guardate questa bella fanciulla elfica, ragazzi. Qua mi sono risvegliato in questo punto. Ma ascoltiamo il dialogo. Credo che siamo finissi per il giorno, mio tulip. Sei l'amore e lasciciamciammi. Credo che possiamo conclare che questa cosa sia sia tra noi e noi. Allora, certo? Crivan Espaina, il Corban Maca e il Louvore del Revere. Capbill. Hai un'altra mia nuova model? Un'altra cosa di Lara Doran è l'altra. Wouldn't you agree, Grievern? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Got any vodka? Oh, yeah, keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. Hmm. I must admit, you appearing here, quite a surprise, Witcher. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Just curious. No, but honesty is not a facet of your species, so quit spewing bile won't gain you anything. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've been a neuromancer. My intuition was correct. This will be interesting. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt. A true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Yen Shea. Directly this time. Let's go, before any guards show up. I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advise Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised. Where is it? You will see it. In your dream. Ah, yes. The Oenir will answer. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the Enel against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalach our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Very well. Have your oracle summoned dreams of my king's last moments. We shall all dream them. To make certain there are no misunderstandings. Why not? Let wobble. Do we even despair? If I discover I'm with him. Don't deny it. ButА4 now you have to leave. What? I'm so justified, as like Phil... Why not? Already, 97 or 000? The King is dead. Lock live the King. You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Naga Fair. Eredin will come too. Should he call for reinforcements, no NL will answer. You have done the thing most just. A new portal to Tir Nalia will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. The King is dead. 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 The King is dead.